Salve a tutti, bentrovati a questo nuovo programma. Permettetemi di spendere pochi minuti iniziali per spiegarvi il titolo, il rasoio di Ockham. Guglielmo d'Ockham era un filosofo medievale il quale sosteneva che per dar conto della realtà, dei fatti che caratterizzano la realtà, bisognerebbe tagliare letteralmente tutti quei ragionamenti, quei pensieri astratti, astrusi che ci allontanerebbero dall'essenza delle cose. Noi oggi sappiamo ovviamente che la realtà supera la fantasia e a volte anche le concezioni più astruse possono essere effettivamente vere. Ma quello che voglio dire è che questo programma vuole offrire anche uno stimolo di riflessione, uno spunto di suggestione per poi ovviamente sviluppare per proprio conto analisi e riflessioni ulteriori. Data anche la durata, questo programma vuole andare in un certo senso all'essenza delle cose e quello che cercheremo ovviamente di fare. Ebbene io vorrei iniziare questo primo appuntamento parlando di un testo, eccolo qui, retorica e logica, le due culture di Giulio Preti. Chi era Giulio Preti? Un filosofo italiano sconosciuto ai più, e non mi stupisco di questo, forse conosciuto soltanto a pochi studenti seri di filosofia o a piccoli circoli ristretti di cultori della materia. Dunque in questo testo Giulio Preti che cosa fa? Riprende una polemica, una vecchia polemica nata nella metà del Seicento, tra i cosiddetti antichi e i moderni. Gli antichi erano coloro che si rifacevano alla cultura classica, classicista, i moderni invece erano coloro che volevano un'innovazione, che guardavano a modelli e schemi per il futuro. Questa querelle nacque essenzialmente nel mondo letterario, ma in questo libro Preti riprende quel dibattito e lo sposta sul piano della cultura, della società, della filosofia. Secondo Preti esisterebbero due culture, quella della retorica, appunto di matrice letteraria, una cultura che si basa sulla persuasione, sull'opinione, addirittura anche sulla manipolazione, che si rivolge essenzialmente a un uditorio di persone parziali, cioè queste persone sanno più o meno che cosa aspettarsi dall'oratore, dal retore, da colui che parla. All'altro lato abbiamo invece una cultura logica, la cultura che si basa sulla scienza. Mentre la cultura retorica invece fa proprio il mondo classico e quindi l'autorità del testo, l'autorità del filosofo, l'autorità del sapiente, la cultura logica invece dovrebbe far proprio l'autorità del fatto, cioè dell'indagine, dell'esperimento e dell'esperienza scientifica. Ora per Preti queste due culture sono inconciliabili, cioè non c'è la possibilità che queste due culture a un certo punto si incontrino perché hanno valori, obiettivi e modalità operative completamente diverse. Ora da questo piccolo testo pubblicato dai Naudi nel 1968, io ho la versione originale qui, eccola, mi viene da fare una riflessione, una riflessione che voglio proporre anche a voi. In questi ultimi tre anni abbiamo visto un crescente interesse verso la scienza, la scienza entrata prepotentemente nell'opinione pubblica, non che prima fosse estranea, ma sicuramente aveva un ruolo marginale. In questi ultimi anni abbiamo visto invece che la scienza ha acquisito sempre più spazio nel dibattito dell'opinione pubblica. Ora io credo che ci sia però essenzialmente una colossale confusione e mistificazione intorno al pensiero scientifico. Perché? Perché io non penso che si sia di fronte a una contrapposizione di due culture in questi anni, io invece penso che si sia di fronte a una latitanza completa della cultura scientifica. Cioè quando io per esempio, lo dico a titolo esemplificativo, sento dire che i vaccini contro il Covid-19 devono essere efficaci perché nella storia della medicina ci sono stati altri vaccini che hanno salvato milioni di vite. Bene, io allora dico, come dire, che queste persone ci vogliono far credere per analogia che siccome ci sono stati dei vaccini che hanno salvato milioni di vite, quindi ergo quelli contro il Covid-19 devono essere necessariamente efficaci. Ora io questo lo trovo un ragionamento lontanissimo dal modo di operare della scienza. Vedete, la scienza dovrebbe, come dire, sperimentare, dovrebbe elaborare teorie, dovrebbe rendere conto di una realtà, ma soprattutto la scienza deve ricordarsi che può essere sempre messa in discussione. Noi oggi abbiamo una spiegazione di una realtà, ma che può essere smentita in un prossimo futuro nel momento in cui ci siano ulteriori ricerche ed esperimenti. Quindi si può smentire una teoria, si può integrare, si può sviluppare ulteriormente. La critica deve essere parte integrante della scienza. E invece negli ultimi anni noi che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che anziché essere questo praticamente la scienza è fideismo, la scienza è dogma, la scienza si dice deve procedere verso la verità, ma in realtà la scienza non cerca la verità, non spiega la verità. La scienza serve per, come dire, rendere conto della realtà e addirittura anche creare delle modalità attraverso le quali si può tutti vivere meglio. Anche questo, ma non cerca la verità. Quella scienza che si fa verità, che si fa dogma, è ovviamente una sorta di neo-neopositivismo, di post-positivismo, cioè è l'apologia di una verità di tipo religioso. Ora però tutto questo aspetto che la scienza ha assunto negli ultimi anni non si potrebbe capire se non si facesse ricorso anche a un altro aspetto fondamentale, cioè quello degli esperti, dei cosiddetti scienziati. Vedete, se noi ascoltiamo nei mezzi di comunicazione parlare un cretino e sappiamo benissimo che sta parlando un cretino, bene, poco male sappiamo appunto che cosa dobbiamo aspettarci. Il problema è però quando sentiamo parlare un esperto, quando sentiamo parlare uno scienziato, le cose sono molto diverse. Come ci diceva il vecchio Guy Debord, noi viviamo nella società dello spettacolo e nella società dello spettacolo a tutti è dato 15 minuti di celebrità. Purtroppo oggi quei 15 minuti si sono allungati ulteriormente. Per cui cosa succede? Che quando noi sentiamo parlare un esperto, in televisione accade questo, che per due minuti, tre minuti parla di quello che dovrebbe sapere e a volte lo sa anche male e il successivo tempo parla di tutt'altro. Ora cosa accade? Che lo spettatore, il pubblico, ascolta quello che dice l'esperto su ciò che dovrebbe sapere e automaticamente per analogia lo trasporta anche a ciò che dice in maniera successiva, cioè ulteriormente. E questo è un problema molto grave, sapete, perché il concetto di autorità viene automaticamente esteso a tutto quello che proferisce l'esperto e lo scienziato. E abbiamo visto che cosa porta tutto questo, cioè gli scienziati, gli esperti, i cosiddetti esperti, parlano di tutto e si assumono un'autorità che non hanno. Se gli esperti, gli scienziati facessero davvero il loro mestiere, noi avremmo una scienza vera, avremo un concetto più democratico, più pieno della scienza e della razionalità. E invece non abbiamo tutto questo. Noi abbiamo il fideismo, abbiamo il narcisismo dell'apparire televisivo, abbiamo gli scienziati che si trasformano in vedette e questo naturalmente porta a una scienza che non è più tale, ma è assolutamente apologia di una verità granitica che invece non dovrebbe essere. Per cui io ritengo che, partendo da questo testo, insomma, che vi invito a leggere, noi oggi dovremmo riflettere su questo, cioè sulla mancanza assoluta di una cultura scientifica. Io voglio essere positivo e pensare che ci siano ancora delle piccole riserve dove la scienza davvero si fa e i risultati davvero sono tangibili e anche utilizzabili dalla comunità. Però quello che noi stiamo vedendo in questi anni è davvero gravissimo a tutti i livelli, cioè c'è una mancanza di pensiero scientifico vero e razionale. Noi non abbiamo più la contrapposizione tra una cultura retorica dell'opinione, della persuasione, una cultura letteraria confrontata a una cultura scientifica, logica. No, noi abbiamo due forme, permettetemelo di dire, di sciamanesimo che si scontrano, due forme di dogmatismo religioso, parareligioso che si scontrano, ma certo una di queste non è assolutamente la cultura scientifica. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima. Grazie a tutti.